quarta tappa venezia monaco parto da brunico o brunico presso il campeggio questa è la becci pista ciclavia qui sotto e si va in quella direzione campeggio con animali qui ci sono le capre anche dall'altra parte il campeggio qui sopra campeggio con piscina tutta quella struttura lì sono tutti i servizi qui ci sono altri servizi, la recezione e si va entrata del camping lì è la recezione qui ci sono i gonigli qui ci parte qui ci sono i ragazzi Grazie a tutti. 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 Brennero. Brennero. Siamo in Austria. e... Eccola qui sotto Innsbruck in direzione campeggio Innsbruck in direzione Camping in Isbruck, vicino Isbruck, sono arrivato ecco qui